Grazie a tutti. Alla fine del concetto erano tutti molto contenti, molto felici, però nessuno chiedeva un messo. Non so, sono sicuro che i miei colleghi saranno preparati, adesso non so, poi magari vado a fare. E io ho preparato. Ho chiamato a fare questo bis con me, un carissimo collega, un bravissimo musicista che tutti naturalmente conosciuti, per fare un brano sconosciuto. Io sono riuscito a trovare, perché ho dato veramente nella memoria di quando ero ragazzo, un brano bellissimo di Max Roche, un battaglista jese, più famoso questo battaglista jese, che fa questo pezzo accompagnato da Eric Donnelly, altra edito il basso. E ho invitato a farlo con me, Paolo Lava. Grazie. 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 Applausi. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti.